La parte inguinale è la fuoriuscita dalla cavità addominale attraverso un orifizio interno ovviamente di una parte del contenuto di questa cavità addominale che può essere o un viscere o anche semplicemente del tessuto adiposo, del tessuto grasso, o a volte in casi particolari anche semplicemente di liquido che si impegna in quello che si chiama il dotto peritoneo vaginale che è un canale, un dotto che mette in comunicazione questa cavità addominale con l'inguine e a volte anche lo scroto. Questo dotto è aperto e pervio come si dice in termini tecnici durante la gestazione nel periodo embrionale fetale e poi con la nascita si chiude, ma non sempre si chiude, può rimanere aperto, può riaprirsi e può dar quindi luogo a quello che sono le ernie inguinali, a volte inguinoscrotali, a seconda appunto di quanto di questo canale viene percorso dal contenuto erniario. I sintomi possono essere diversi, non sempre per forza il dolore, a volte è soltanto la presenza di una tumefazione, di un rigonfiamento a livello inguinale o addirittura scrotale nel maschio. Altre volte per ernie di dimensioni più piccole ci può essere il dolore, il fastidio, la sensazione di corpo estraneo proprio a livello della regione inguinale. Tipicamente noi diciamo che più è piccola come dimensioni, come volume l'ernia e più è facile che dia una sintomatologia di tipo doloroso. Invece più grande è l'ernia, quindi il contenuto erniario e più il fastidio sarà quello di ingombro e di tumefazione. Esiste una complicanza della patologia erniaria, soprattutto dell'ernia inguinale, che è lo cosiddetto strozzamento o incarcerazione dell'ernia. In questo caso la sintomatologia dolorosa sarà più importante ed è l'unica situazione nella quale è bene ricorrere ad una visita chirurgica urgente. La cura della patologia erniaria a livello inguinale è sempre chirurgica, diciamo che non esiste altra terapia al momento. E' chiaro che la terapia chirurgica consiste in un approccio open, come diciamo noi, attraverso un'incisione inguinale, detta anche inguinotomia, o un approccio laparoscopico, quindi attraverso l'addome con delle sonde che vanno in una telecamera per andare a operare l'ernia inguinale dall'interno. In ogni caso, comunque, nell'età adulta, non nell'età pediatrica, l'ernia viene riparata con delle protesi, in inglese delle mesh, delle reti in materiale sintetico, che vengono utilizzate per andare a, tra virgolette, a tappare il buco, l'orifizio erniario e a rinforzare l'anatomia del canale inguinale. Sarà il chirurgo che suggerirà al paziente il miglior approccio chirurgico. E' ovvio anche, comunque, che ci sono delle situazioni estreme, come le ernie, nell'età più avanzata della nostra vita, laddove forse si può passare a una stensione chirurgica e a limitarsi a un supporto esterno. Ma sono casi veramente limitati. La chirurgia, che è la situazione più frequente, il periodo post-operatorio non è particolarmente doloroso. È molto importante seguire le indicazioni che il chirurgo darà, ma principalmente deve esserci un periodo di riposo, di almeno una settimana, con astensione da sforzi fisici intensi. A me piace dire in questo momento che va di moda al paziente, ahimè di moda, dire al paziente, un lockdown spontaneo nel post-operatorio per diminuire proprio gli sforzi fisici. L'approccio laparoscopico, quindi attraverso l'addome per la correzione dell'ernia, ha il vantaggio di essere un po' più aggressivo nel momento dell'anestesia, perché richiede spesso un'anestesia generale, ma tendenzialmente è un po' meno doloroso nel post-operatorio, il recupero è più rapido e si utilizza infatti negli sportivi, spesso gli sportivi professionisti e quando vi è un'ernia bilaterale, in questo caso si favorisce l'approccio laparoscopico rispetto a quello con le incisioni a livello inguinale.